bella a tutti ragazzi qua domenica benvenuti in questo nuovissimo video siamo tornati oggi nel fantacalcio della tredicesima e quattordicesima giornata di serie a partiamo col vedere subitissimo quello che è successo nella scorsa giornata scusate ancora per la pubblicità come sempre selva 0 realcolizzati 3 vi ricordo che io sono realcolizzati selva che fa 55 e mezzo quindi nemmeno un gol sfortunato allison 6 col gol 5 il ristoff che non gioca ha messo lui perché poteva al massimo entrare mentre golam ha il crociato rotto alexandro che non ha giocato isai 6 nengolan 7 e mezzo col gol e ammunizione 10 vesino 6 e mezzo amsic 6 perisic 6 belotti 5 e mezzo col rigore sbagliato 2 e mezzo giaco 6 merten 6 e mezzo con l'assist 7 e mezzo vabbè in panchina che gli ha giocato brozovic e stragocia quindi difensori nessuno che potevano subentrarti vediamo a me 78 preciso per i 3 gol reina 6 meno il gol 5 e cerbi 5 e mezzo colano 6 e mezzo rodriguez non è entrato baselli 7 col gol 10 bernadeschi 6 col giallo 5 e mezzo gli haici 7 da glas costa 7 e mezzo papu gomez 6 immobile 6 con il rigore segnato alla roma 9 insigne 7 con il gol 10 pacchina aveva donna roma che aveva preso 5 caldara che non aveva giocato bruno peres 6 che è entrato quadrato 6 cialano lapadula e galabinov che aveva preso 5 e mezzo rasciatina violenta che come sapete la capolista vince 3 a 1 andiamo a vedere rapidamente la classifica rasciatina violenta che è sempre a più 4 andrò a giocare contro la stone birra riasciatina andrò a giocare contro selva andiamo a fare la formazione proprio per questa giornata come sapete utilizzo quasi sempre il 3 4 3 in porta ovviamente andiamo a mettere io metterei quasi donna roma questa giornata perché reina me lo sento che non andrà benissimo io infatti metto donna roma almeno per ora in difesa ci abbiamo acerbi caldara e penso kolarov non mi fido di riccardo rodriguez al centrocampo abbiamo baselli berladeschi che non dovrebbe giocare quadrato non dovrebbe giocare da class costa invece si e lo mettiamo cialanoglu non dovrebbe giocare gli edge dovrebbe giocare per ora metto questi ma credo che cambierò formazione perché non si può giocare così quadrato dovrebbe essere addirittura infortunato anche bernardeschi a questo punto mettere cialanoglu ma andrei a cambiare modulo in attacco ovviamente il papu contro il benevento non si tocca immobile non si tocca mai a prescindere contro chi giochi e insegne non si tocca in panco ovviamente reina che poi probabilmente però andrò a mettere in porta dato che spero che segnino baselli e liaic non mi auguro che li prenda donna roma questi gol poi mettiamo rodriguez in difesa insieme a lukaku a centrocampo bernardeschi e quadrato dovessero mai giocare e in attacco metterei borriello anche se non gioca e la padula salviamo poi andrò quasi sicuramente ancora ve lo ripeto a cambiare la formazione andiamo a vedere una cosa che non vi ho fatto vedere negli ultimi video il campionato se fosse a punti sono ancora primo qui però non conta come classifica addirittura a più 38 sulla sciatina violenta che in realtà però è primo nel campionato a scontri diretti con ben 4 punti in più questo video finisce qui mi raccomando iscrivetevi al can se ancora non l'avete fatto mettete like bella